Siamo qui con De Rose, appena finita la partita, raccontacela tu. Gran bella prestazione contro una delle prime a classifica, quindi grande soddisfazione. Tutta la squadra ha grande sacrificio in campo, oggi si è visto l'opportunità di avere dei cambi, ci hanno fatto rifiutare. Non siamo scesi troppo in provocazioni e questa è stata una cosa positiva. Alla fine abbiamo portato un bel risultato a casa, tanta fiducia e speriamo di divertirci ancora per le prossime partite. Grazie, complimenti per stasera e in bocca al lupo per le prossime.